I militari del gruppo Carabinieri Forestale di Salerno hanno condotto una diffusazione di controllo mirata a verificare la tracciabilità dei prodotti alimentari destinati alla vendita ed il rispetto della corretta informazione offerta ai consumatori presso gli esercizi di vendita. Le verifiche sono state condotte in numerosi comuni della provincia di Salerno ed hanno riguardato in particolare prodotti ittici e prodotti dolciari natalizi. Numerosi i casi di irregolarità accertati, per i quali i militari hanno proceduto ad elevare 27 sanzioni e a sequestrare circa 400 kg di pesce di diversa tipologia e 20 kg di prodotti di pasticceria del tipo panettoni artigianali.